L'affluenza è il 48%, nonostante ci siano 2.040 aeree, quindi non sono venuti a votare quasi tutti quanti, e qui su 9.800, quindi un 20% comunque è dovuto a questo di calo dell'affluenza. Ci sono 300 voti in più rispetto alle elezioni del 2018, quindi comunque sono state più sentite, risultato 48% per Forza Motta, 16% per Altra Motta e 35% per Uniamo Motta. Senta, noi abbiamo incontrato anche il collegio 8, Uniamo Motta, l'abbiamo visto abbastanza bastonato, cos'è che ha fatto la differenza? La concretezza di questi 5 anni. Qui di mezzo c'è anche questa spaccatura all'interno del centro-destra con i fuoriusciti, addirittura Fratelli d'Italia commissariata, come ricucina? Io ancora non ho avuto una motivazione, della vera motivazione per la quale ci sono state due liste invece che una unica, quindi siamo aperti al dialogo con tutti quanti, dipende da loro. E poi da dove ricominciare domani mattina, perché stasera voi festeggiate, ma domani mattina si ricomincia a fare il sindaco? Sì, partiremo sicuramente da dove siamo arrivati, quindi con la presentazione di un mando proprio per la scuola qui dietro, per l'antisismica, ma soprattutto mi aspetto nei prossimi 5 anni, visto che ci sono 50 persone, 50 candidati che ci hanno messo la faccia in queste elezioni, che ovviamente rimangono a disposizione per il bene di Motta.